Le festività di Pasqua fanno ripartire gli alberghi pesaresi. A riempirli saranno soprattutto i tradizionali tornei di basket Ciao Rudy e Olimpia che al seguito delle 160 squadre giovanili partecipanti porteranno sul territorio 3-4 mila presenze assorbibili solo in parte dalla ricettività pesarese con l'organizzazione dei tornei costretta a dirottare su Gaviccia Cattolica quasi il 40% delle presenze. Non solo basket però, la categoria alberghiera registra una percentuale più alta di prenotazioni anche per quel che riguarda il turista che intende far visita alla futura capitale della cultura. Vediamo che quest'anno le prenotazioni sono tornate in maniera più importante rispetto all'anno scorso, probabilmente le persone si organizzano anche meglio, si organizzano prima, quindi siamo sopra un 20% di prenotato rispetto all'anno precedente. Alberghi che non partono a pieno organico fra aperture rimandate e ristrutturazioni in corso. Ma siamo a circa l'80% di aperture degli hotel quindi una buona percentuale e come dicevo prima con una offerta variegata e diversificata quindi questo è importante. Non solo Pasqua arrivano già indizi confortanti anche per i mesi successivi. Le persone stanno tornando a prenotare quindi riusciamo anche a pianificare meglio la stagione ed è una stagione che speriamo sia positiva.